Sulla scia dell'operazione di ieri condotta dalla Polizia di Stato che ha visto l'arresto di 5 persone sulla mafia dei Pascoli, continuano i controlli nei confronti di aziende agricole ed allevamenti operanti nel territorio. Contestualmente all'esecuzione di una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria di Palermo, la Polizia di Stato ha proceduto a una serie di perquisizioni, di iniziative a carico dei soggetti ritenuti contigui agli arrestati, nonché a molteplici mirati controlli di natura veterinaria e igienico-sanitaria nei confronti di aziende agricole e di allevamenti operanti sul territorio giugentano di Santa Margherita del Belice, Montevago, Sambuca di Sicilia, condotti dalla Questura di Agrigento con il supporto dei reparti di prevenzione e crimine della Polizia di Stato, del Dipartimento di Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico di Palermo, Agrigento e Trapani. Le verifiche hanno riguardato in particolare controlli sanitari in quattro stabilimenti di ovini, due caseifici, un locale deposito latte nel comune di Santa Margherita del Belice. Al riguardo i medici veterinari, supportati costantemente dai poliziotti del Servizio generale operativo della Sisco di Palermo e delle squadre immobili di Agrigento e Palermo, hanno constatato all'interno di uno degli ovili monitorati la non corrispondenza tra la consistenza dei capi registrati nella Banca Dati Nazionale delle Anafriche Zootecniche e l'effettivo numero di capi presenti, essendo risultati assenti circa 40 animali adulti, è rilevata la presenza di 100 ovini di età superiore ai 6 mesi non identificati e 30 con identificazione incompleta. Inoltre, all'interno di un altro allevamento di ovini, i veterinari hanno accertato che il sito dove erano presenti gli animali non risulta essere censito in BDN con regolare numero di registrazione, non avendo la proprietaria dell'allevamento richiesto alcuna registrazione del codice di pascolo al di fuori della sede aziendale. Ancora all'interno del medesimo vile è stata rilevata la non corretta identificazione di circa un centinaio di capi, pertanto i veterinari hanno disposto un immediato blocco dei movimenti da e verso l'attività. Analogamente all'esito di un controllo a carico di un'azienda sita da Grigento, il personale veterinario ha riscontrato la presenza di 53 capi di ovini provvisti del cosiddetto documento di accompagnamento, pertanto ha predisposto il blocco immediato dei loro movimenti fino alla risoluzione delle non conformità riscontrate. L'attività di iniziativa si innesta in una più ampia azione di contrasto coordinata dalla SCO della Polizia di Stato contro l'ingerenza criminale nel settore agropassorale, nella filiera agroalimentare e anche a tutela della sanità pubblica.